Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trebimeteo, partiamo come sempre dal satellite perché ci illustra una bella giornata, una pausa solleggiata su gran parte delle nostre regioni, a parte un po' di variabilità attualmente sul basso Tirreno e sulla Sardegna per correnti umide in quota fresche occidentali, ma altrove è una bella giornata, il grosso della perturbazione ormai si trova sui Balcani. Cambiamente però nuovamente dietro l'angolo, difatti sarà una settimana pienamente autunnale con la discesa di un impulso di aria fredda dal mare del nord, dalla Francia, sul Golfo del Leone, darà vita a una zona di bassa pressione tra mercoledì e giovedì, con piogge domani, attenzione soprattutto sul lato tirrenico, in arrivo in particolar modo tra Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, anche la Sardegna vedrà dei temporali in giornata, peggioramento che dalla serata poi si muoverà anche sulle regioni settentrionali con fenomeni anche intensi durante la nottata di mercoledì e giovedì mattina sul nord-est. Infatti giovedì saremo preda di questa zona depressionaria, un vortice ciclonico alimentato da aria fredda scandinava, quindi pioggia, più riprese, acquazioni temporali in arrivo anche al sud in giornata, venti sostenuti e la neve, neve che scenderà sulle Alpi fin verso i 1300-1700 metri di quota, ma fiocchi di neve anche sulle cime appennini che ha appennino settentrionale oltre i 1400-1700 metri. Tutti i dettagli precisi, come sempre, scaricando l'app di Trebi Meteo.